E' tutto pronto per correre con l'ambiente memory all'Antonio Massa, gara podistica di 10 chilometri che si svolgerà l'11 marzo nella zona del centro storico di Napoli e che coinvolgerà la zona della quarta municipalità. Una manifestazione valida per i campionati nazionali di ASC 2018. Il punto di incontro è fissato alle 7.30 al campo generale Albrici in via Pignatelli adiacente a piazza nazionale nel cuore della città di Napoli. Un percorso che si snoderà poi attraverso via Calataponte di Casanova per poi procedere verso piazza Garibaldi, corso Umberto I fino a piazza Borsa. Da lì fino a via Montoliveto per poi attraversare via Costantinopoli fino a piazza Cavour e Carlo III. Poi i podisti percorreranno via Alessio Mazzocchi passando per via Colonnello Lalleri percorrendo Corso Malta e via Rimini e arriveranno di nuovo a piazza Nazionale con traguardo a via Generale Pignatelli. Ascoltiamo l'assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borriello. Mettiamo insieme non soltanto la gara come manifestazione sportiva ma un messaggio importante nel mese della donna, nel mese della parità, nel mese dove dovremmo essere tutti più attenti alla tematica ma non soltanto a marzo. Questo messaggio di sport parta attraverso questa gara straordinaria. Si tiene come ogni anno, ormai siamo alla ennesima edizione. È molto bella, quest'anno c'è la variante del percorso all'interno del sito Unesco. È veramente una cosa che è fatta con grande passione. Gli organizzatori sono sempre attenti a tenere una manifestazione in un luogo non facile perché noi siamo abituati ad avere le gare podistiche nei luoghi vicino al mare che hanno altri percorsi. Questo è il centro storico ed è bello anche questo messaggio. Non soltanto sport ma una manifestazione podistica dal grande significato sociale e che fa della beneficenza un punto fermo. Ascoltiamo Alfonso Iavarone, presidente dell'Associazione Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile e tra i promotori della manifestazione. Il messaggio è praticamente un messaggio particolare contro la violenza sulle donne. Quindi tutti gli atleti correranno con un fiocchetto rosso proprio a testimonia di questa cosa che in effetti purtroppo è all'ordine del giorno. Quindi cercheremo di lasciare con la corsa e con lo sport un messaggio abbastanza forte.